Benvenuti a tutti alla seconda giornata di Astronauticon 8, questa mattina ho il piacere di aprire con una storia dell'astronautica del passato, anzi a dire la verità è uno degli ennesimi vaporware perché purtroppo non si è andato molto lontano con questo progetto, per quanto riguarda Hermes, la mattina però continua dopo di me con una deviazione artistico-letteraria con Stefano Cavina e Nicoli Vancic che ci parlano insieme del libro Sorella Luna e penso anche qualcosa in più nel senso del progetto in cui in questo libro si inserisce che ho dovuto correggere e mi scuso perché mi ero fatto un ennesimo gaffone nella preparazione del manifesto. Seguirà Sergio Palumberi, c'è il nostro bus, che è là dietro nascosto, e Alessandro Alcibiade che è un medico della marina militare, se non sbaglio, è già qui, no? Con una trattazione sulla gravità artificiale come contromisura al decadimento psicofisico indotto dalla prolungata permanenza nello spazio e chiude ancora una volta una parentesi letteraria con Daniele Vassalli che presenta il libro Selenopolitica, Ascese e declino del programma lunare sovietico e quindi ci aspettiamo di finire intorno alle 18 più o meno la giornata di oggi. Per chi ha prenotato o quantomeno si è segnalato, ricordo che come ieri andiamo a mangiare nello stesso ristorante dietro il planetario e come vi ricordava giustamente Raffaele c'è un piccolo dettaglio, cioè che siccome facciamo tutti più o meno parte di ISA è possibile già qui in planetario oggi rinnovare l'adesione a ISA, abbiamo le tessere pronte all'ingresso, il vantaggio è che non dovete aspettare alla spedizione che è sempre un pochino problematica visto che le poste spesso perdono la busta, quindi è già possibile all'ingresso associarsi o rinnovare se siete già soci. Va bene allora non perdo altro tempo e vi racconto un po' com'è nata questa idea di preparare questa presentazione. La presentazione è nata perché un mio collega ha cambiato lavoro e ha svuotato il suo ufficio da un plico molto consistente di numeri di ISA Balleting, che è questa rivista, ed è stampata e spedita a casa di chi ne fa richiesta dall'ESA da ormai qualche decennio. Il mio collega si era tenuto questo numero perché racconta i primi passi del progetto di Integral che è un telescopio gamma di cui tra l'altro abbiamo parlato nella precedente Astronauticon e si era messo da parte questo e altri numeri per seguirne lo sviluppo nel corso degli anni. Io sfogliandolo ho trovato in realtà che era un numero quasi monografico, a parte l'articolo su Integral, dedicato al programma Hermes, al programma Columbus e all'idea dell'accesso indipendente dell'Europa allo spazio. Quello che vedete raffigurato qui in copertina è proprio lui, il protagonista se volete della mia chiacchierata, perché è l'ultima configurazione della navetta Hermes prima della cancellazione del progetto. Spoiler! Hanno cancellato il progetto. Quindi i punti che voglio toccare un pochino con questa trattazione sono le origini di Hermes come progetto del CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, il concetto di accesso indipendente europeo allo spazio, la ricerca dei requisiti per questa navetta che in realtà faceva parte, lo vedremo, di un progetto molto grande e molto complesso del ruolo europeo nell'esplorazione del cosmo, dell'orbita bassa in questo caso, le caratteristiche finali definite per Hermes poco prima della sua cancellazione, un possibile profilo di una missione Hermes, un'occhiata al programma Columbus e poi una sezione Amarcord perché un'altra delle cose affascinanti di avere per le mani questo tipo di riviste, quando sono un po' datate, è guardare, almeno per me, guardare la pubblicità, guardare ciò che si cercava di vendere in quel momento come il Bleeding Edge, come la cosa più avveniristica e poi su una rivista come questa, questo accento sull'avveniristico, su qualcosa di grande che sta arrivando era particolarmente marcato e oggi che sono passati quasi 30 anni direi che si guarda con un pochino di amarezza, almeno nel mio caso. Dicevo che Hermes si inserisce nel contesto di un programma, di un'idea di accesso all'orbita bassa molto molto ricca, molto complessa e in realtà è chiaro a tutti che questo è uno Space Shuttle, ma nell'uso di questa grafica, immaginatevelo come Hermes, è stato fatto un lavoro, diciamo, non esattamente accurato nel riprodurre la navetta qui, è più l'idea, questo è un avatar per il nostro Hermes, tant'è che viene, come vedete, montato sopra un Ariane 5, ma senza fare confusione vi mostro i vari componenti. Beh, intanto Hermes che cos'è? Un mini spazio plano alato, in grado quindi di rientrare planando come fa, come fece lo Space Shuttle e come era, insomma, come era abilitato dal fatto di avere delle ali. Naturalmente aveva un sistema di protezione termica che lo rendeva in grado di superare il calore del rientro in atmosfera. Doveva essere lanciato a bordo del secondo elemento che conosceremo oggi, l'Arian 5, che era necessario, la cui potenza, la cui capacità di sollevare carichi in orbita bassa di notevole peso era necessaria per portare sulle 21 tonnellate circa di Hermes nella sua configurazione definitiva. Cosa andava a svolgere Hermes? Lo vedremo poi nel dettaglio, ma di fatto era una piattaforma che doveva servire tre elementi principali. Una piattaforma di ricerca polare, quindi una sorta di satellite, se volete, non abitato, ma visitabile da parte dello Space Shuttle, scusate, dell'Hermes, che poteva agganciarlo e fare manutenzione oppure addirittura cambiare degli elementi modulari degli esperimenti. Un po' la piattaforma, adesso ho subito un lapsus, la piattaforma di prossima installazione all'esterno della ISS, Bartolomeo, ecco, un'idea simile, però messa in orbita polare con strumenti probabilmente intercambiabili e aggiornabili. Secondo obiettivo, e dalla forma capiamo anche di che decennio stiamo parlando, era raggiungere la stazione spaziale Freedom, quella che era un po' il precursore dell'attuale ISS. E perché Freedom? Perché su Freedom gli europei avrebbero dovuto installare un grosso modulo pressurizzato, destinato a restare ancorato appunto a Freedom e ad essere uno spazio, un laboratorio orbitante per la ricerca in microgravità. Sì, hai ragione. Beh, qui stiamo parlando della fase di progetto, di ideazione, quindi siamo nei primi anni 80, nei primi cinque anni degli 80, tra l'80 e l'85. Dicevo che sulla Freedom era prevista una presenza europea con un grosso laboratorio, dal numero di elementi potete capire che si tratta di un 4, 4 elementi, 4 elementi pressurizzati. Terzo obiettivo era quello di andare a servire un'ulteriore piattaforma orbitale, completamente indipendente ed europea, che era il Mantended Free Flyer. E in questo caso avete sì un modulo di servizio, ma se notate la parte anteriore, ci sono due elementi, quindi è qualcosa grande la metà del modulo installato sulla stazione spaziale, e che però aveva il vantaggio, se volete, di essere un sistema isolato e normalmente non abitato. Cioè era man-rated, in grado di accogliere un equipaggio umano per attività di manutenzione, sperimentazione, cambio dei rack, quindi cambio dei cassetti contenenti gli esperimenti, ma poi nuovamente abbandonata e quindi gli esperimenti erano ideati per essere condotti in maniera automatizzata, altamente umatizzata. E poi c'era anche collateralmente il programma Eureka, in realtà poi questo ha fatto tutta una sua strada, è stato lanciato un oggetto di questi a bordo dello Space Shuttle, in effetti NSTS, vabbè. E Ernst non aveva capacità di indicare? No, ni, no, ni. Il modulo di possibilità è indicato doveva essere super lasciato? Non precisamente, lo vedremo nella fine, era stato aggiunto, poi prometto che te lo faccio vedere nel dettaglio, ma al semplice spazio plano, qui in questa figura, manca un'estensione conica, che era destinata a essere rilasciata prima del rientro e che conteneva lo spazio extra per ancorare i rack, e aveva un portello di attracco destinato sia ad agganciarsi al Mount-Handed Free Flyer, sia alla parte agganciata a Freedom. E qui non c'è perché praticamente qui l'idea d'artistica è quella del momento immediatamente precedente al rientro, e quindi questa parte era completamente abbandonata. Magari aiuto a Marte? Distaccabile, distaccabile. Dicevamo delle origini del progetto. La Francia era molto attiva nel campo dello sviluppo spaziale, tant'è che l'eredità di questa iperattività francese è ancora forte in ambito di ESA. Abbiamo parlato in apertura di Ariane 5, e Ariane 5 sappiamo tutti che è rimasto, ed è qualche cosa gestito ancora largamente da infrastrutture e persone, ingegneri, prevalentemente di origine francese, perché in Francia si voleva in qualche modo premere, anche per un discorso di prestigio, per iniziare un programma di accesso abitato allo spazio, all'orbita bassa. E quindi negli anni 70, alla fine degli anni 70, in CNES si comincia la discussione per costruire un piccolo spazioplano con equipaggio, che non aveva alcun vano carico previsto, si ispirava idealmente ai concetti dello Space Shuttle, che allora era più o meno ancora in fase di costruzione. Però in questo momento era ben chiara una distinzione che più tardi verrà in qualche modo fatta scomparire, cioè la mancanza di un vano cargo non è casuale, si voleva separare l'accesso allo spazio con l'uomo, perché il vero valore aggiunto è la sua attività e il suo lavoro, dall'accesso allo spazio per il deployment di satelliti o di altre piattaforme, che poteva essere svolta in maniera autonoma da altri tipi di veicoli. Questi due concetti sullo Shuttle in realtà sono stati uniti e sono stati parte della sua sfortuna, mentre all'inizio, almeno all'inizio, in campo CNES si volevano tenere separate queste due cose, quindi un piccolo spazio plano con uno scopo ben preciso, portare su e far rientrare equipaggi. Quindi dicevo che di fondo la vera motivazione era l'ambizione di iniziare un programma autonomo MEND, quindi abitato. Quindi io ho fatto un po' di lavoro in taglie e cuci, le mie capacità di grafico si notano da questa bellissima immagine, dove ho preso, ritagliato un Hermes del tutto inaccurato, perché qui è nella sua versione definitiva, quindi è molto successiva in realtà a questo Hermes rispetto al periodo di cui vi sto parlando, ma volevo darvi un'idea di come CNES pensava di lanciare. Pensava di lanciare uno Shuttle così piccolo da poter essere portato su da un Ariane 4, che aveva più o meno 5 tonnellate, nella sua versione più evoluta come capacità di sollevare carichi in orbita bassa, quindi qualcosa di quasi 4 volte inferiore rispetto a quello che sarà poi la capacità richiesta da Ariane 5 e per la versione definitiva di Hermes. Non lo so, l'ho fatto io, quindi credo che sia perfetto, non posso sbagliare, mi sembra tutto perfettamente in equilibrio con Righello come ieri. Quindi l'accesso alla Leo, tra l'altro con un'orbita abbastanza bassa, intorno ai 200 km, l'equipaggio massimo imprevisto è di 4 astronauti, e il carico extra, che non è da intendersi come carico contenuto in un payload bay, che si apre, carico extra, oltre a quello che è necessario per la sopravvivenza degli astronauti, 500 kg, quindi probabilmente qualche forma di armadio, di rec, in cui svolgere operazioni dentro l'orbiter nel periodo di 12 giorni al massimo previsti di operatività autonoma di Hermes. In realtà poi, nelle versioni più avanzate di Ariane, o almeno si erano studiate la possibilità di sostituire i razzi a combustibile solido dell'Hermes con una variante a combustibile liquido particolarmente performante per innalzare le prestazioni del razzo. Tra l'altro Ariane 4 godeva in quel momento di una fama enorme, perché era stato con l'evoluzione da Ariane 1, 2, 3, un costante aumento di prestazioni con un livello di affidabilità ottimo, e quindi era anche, come dire, una bandiera poter utilizzare questo lanciatore per questo scopo particolare. In realtà, lo vedremo, presto si comincia a scontrare con la realtà, cioè sognare è bello, però poi alla fine, come si diceva nel film The Right Stuff, no bucks, no buck rogers. Servono parecchi soldi per progettare, costruire un sistema... parlo troppo forte, sì, un clippo... un sistema abitato, e cominciamo anche a vedere che, via via che questo progetto suscita interesse, ci sono delle richieste ad aumentare le sue capacità, e quindi la richiesta di trasporto di astronauti sale a 6, si arriva a una navetta che ha una lunghezza di... uno spazio prezzogliato interno di 6,3 metri di lunghezza per 15 metri cubi di volume. Un carico pagante fino a 4 tonnellate e mezzo, e quindi sapendo che non abbiamo una cargo bay, vuol dire che in qualche modo si deve aggiungere capacità di carico esterna all'orbiter. Si vuole poter condurre anche delle attività extraveicolari, e allora anche in questo caso serve qualche cosa che ci abiliti a compiere questo tipo di operazioni. E si capisce che a questo punto, mettendo un po' insieme tutti i requisiti, l'Arian 4 ci va stretto, non è più possibile, e allora si preme per la realizzazione di una nuova generazione di razzi, che vedrà la sua incarnazione nell'Arian 5, capace, nella sua versione base iniziale, di portare su 10 tonnellate in orbita bassa. Oppure, quindi siamo quasi a livello di prestazioni, con la prima versione di Arian 5, siamo vicini a quello che si sperava di ottenere, modificando un'Arian 4 con un nuovo secondo stadio più potente e 4 strap-on a combustibile liquido. E in quel momento, poco prima di un evento importante di cui discutiamo tra un attimo, il costo stimato era attorno ai 10 miliardi di franchi francesi. Ok, che è il costo di un satellite, non molto diciamo, beh, a questo punto è proprio questo il punto chiave, che messo a fattor comune l'ambizione francese di iniziare un programma simile, ma gli enormi costi e anche il peso tecnologico di uno sviluppo autonomo di un sistema così complesso, CNES decide di interpellare ESA, ESA che stava nascendo in quel periodo e cerca una strada per europeizzare il progetto inserendolo nei programmi di lungo periodo di ESA. Ne parliamo tra un attimo, ma prima di arrivare a quelle slide volevo farvi vedere questo, perché sempre i famosi numeri di ESA Balletin, siamo nell'agosto dell'86 e questo è, cosa si immaginavano, una delle possibili implementazioni di Hermes, che a parte una forma dell'ala leggermente diversa rispetto a quella del Space Shuttle, sostanzialmente ha tutti i suoi elementi, perché abbiamo, vabbè, la parte, diciamo, cabinata dove l'equipaggio può stare, una docking, una porta per il docking dentro la cargo bay, quindi cargo bay apribile, un braccio robotico e probabilmente una piattaforma per pescare, esperimenti o quant'altro. Chiaramente è idealizzato, non è questa la prima incarnazione di un progetto vero, però ci dà un'idea, ci dà un'idea sulla rivista ufficiale di ESA di qual era l'obiettivo, di qual era questa idea di capacità attribuita a questo punto a un progetto che era nato come un piccolo spazio plano per una delle nazioni europee. E l'ho trovato abbastanza simpatico, forse un po' ingenuo da un certo punto di vista. E quindi, come vi dicevo, nell'85 la Francia si arrende, non ce la fa da sola e decide di usare la sua presenza in ESA per chiedere l'aiuto di tutti gli altri stati membri e adottare il programma Hermes all'interno di ESA. In realtà, altri paesi stanno portando avanti in quel periodo altri studi per l'accesso autonomo allo spazio. Per esempio, uno dei design che ricordo da ragazzino di aver visto su molte riviste ed era molto avveniristico, è un programma del Regno Unito che era un single stage to orbit chiamato Othol, che era di fatto uno spazio plano, se non ricordo male, con uno scrumjet in grado di fatto di partire idealmente come un aereo di linea da una pista e raggiungere l'orbita e poi rientrare. Quindi, estremamente ambizioso, estremamente ambizioso, ma non ricordo, non credo di aver inserito questa slide anche per motivi di tempo, ma poi vi do un po' di referenze e potete andare a vedere da soli. Il design di Othol era visto in questa sequenza ideale di programma Hermes che stava per entrare in ESA come il punto di arrivo, cioè Hermes può essere uno spazio plano in grado di fare una serie di cose, ma sperimentale e una volta acquisito il know-how e la capacità di gestire questo genere di progetti, ESA voleva evolvere in un design ancora più evoluto, ancora più avveniristico, molto simile a quello di Othol in UK. Però anche l'UK entra in questi anni nell'ESA e quindi si decide di integrarlo, ottengono luce verde e viene integrato nei programmi di lungo termine di ESA insieme all'Ariane 5 e alla stazione spaziale Columbus che dovete fare lo sforzo di non identificare con quello che è oggi Columbus, è un progetto molto più grande e molto più complesso. E questa è la notizia data, ho fatto una scansione di una di queste pagine in cui si dice che nel 74esimo meeting degli stati membri dal 25 al 27 giugno dell'86 il consiglio dell'ESA ha approvato la europeizzazione del programma Hermes. Quindi questo è uno step fondamentale. Perché? Perché quando si europeizza un programma nel modo in cui ESA funziona significa anche distribuzione di commesse e un ritorno industriale su tutti gli stati membri che hanno deciso di mettere mano al portafogli e cominciare a dare un contributo allo sviluppo del programma X in questo caso del programma Hermes. E questo sarà anche uno dei fattori che contribuirà alla non riuscita di questo progetto. Perché? Non lo so, no, non era stato membro. Non era stato membro. Non era stato una risposta facile. Ah, una loro risposta. Una loro risposta. Tra l'altro ho letto l'ultima frase della slide precedente che il lancio era previsto nel 1995-1996. Wishful thinking è quello che come definirei. Però va bene, cioè, è anche giusto secondo me che quando si comincia una cosa del genere ci sia quella spinta, quell'entusiasmo per cui non ci si sente perdenti in partenza. Si deve vendere, si devono motivare. Vari ministri dell'università e della ricerca di paesi che da poco hanno iniziato a collaborare in un'agenzia totalmente nuova non solo a cacciare i soldi ma a essere entusiasti dell'idea, a sostenerla politicamente, a far vedere all'industria nazionale che c'è un ritorno interessante. Quindi questo entusiasmo va bene. Sono forse ancora più grandi gli ostacoli incontrati da Esa nella gestione dei suoi progetti che la marmotta che incarta la cioccolata a Hawthorne in California. questo è un pochino l'idea di quello che voleva fare Esa in una ottica di sviluppo sia di capacità sia di diciamo di incremento tecnologico nel tempo. Quindi avete la scala del tempo negli anni 80 si è lanciato il programma Ariane 1 con cui davvero Esa l'Europa ha avuto il suo vero accesso indipendente all'orbita bassa si è evoluto via via nel corso degli anni 90 negli Ariane 2 3 e 4 qui siamo sempre in una rivista di metà anni 80 e quindi vediamo che a partire dalla metà degli anni 90 ci si aspettava che Ariane 5 fosse in grado di non solo di lanciare ma di evolvere nelle sue prestazioni e come giustamente notava Paolo già alla fine degli anni 90 avere una navetta Hermes in grado di operare indefinitamente già fino agli anni 20 del nuovo secolo e infine razzi sempre più capaci e via spazioplani con questa fase di enabling quindi di acquisizione del know-how e delle tecnologie che si potevano ancora sperare solamente sperare in questo decennio tra gli anni 90 e il 2000 questa era un pochettino l'idea di crescita ogni ovviamente come in tutti gli schemi abbiamo una fase di studio una fase di sviluppo una fase operazionale rappresentata da diversi colori da diverse forme tutto questo con l'articolo molto ricco che accompagnava queste slide è disponibile sui numeri di EsaBulletin alla fine vi faccio vedere dove andarli a reperire perché è un po' difficile trovarli da una semplice ricerca di Google ecco gli obiettivi principali del programma Hermes garantire l'accesso indipendente europeo all'orbita bassa con un veicolo abitato svolgere delle missioni di ricerca scientifica autonome quindi con i rack che era possibile montare direttamente dentro Hermes servire il laboratorio spaziale europeo Columbus nelle sue due componenti quella collegata a ISA Freedom e quella autonoma servire la piattaforma di ricerca polare raggiungere la stazione Freedom e ho messo tra parentesi raggiungere la stazione Mir che è stato indicato in EsaBulletin che è stata la mia principale fonte per questa trattazione come ne stiamo parlando con i russi in realtà altre fonti dicono che non si è mai davvero raggiunto una preintesa si trattava forse più di contatti informali però teoricamente questa navetta nella fase di definizione dei requisiti poteva lavorare su diverse quote in diversi tipi di orbita per raggiungere tutta questa serie di diversi tipi di strumenti quindi capacità di orbita polare capacità di orbita a 60 gradi a 28 gradi e mezzo lo vedremo e come accennavo prima Hermes porta gli europei a saltare un passaggio perché sia i russi sia gli americani prima di passare allo sviluppo dei rispettivi sistemi Manda hanno fatto una serie di test per esempio gli americani hanno testato i corpi portanti hanno testato varie forme di rientro con un programma di test serio che prima ha fatto acquisire know-how rispetto al challenge di rientrare in atmosfera con qualcosa che non fosse una capsula con qualcosa che era più facile manovrare ma gli europei decidono di saltare questa fase anzi di unire l'idea dell'imparare qualcosa su come rientrare con un sistema manovrabile dall'atmosfera e allo stesso tempo sviluppare un sistema abitato quindi queste due cose vanno insieme e questo si fa perché dopo una prima analisi dei costi c'era un progetto di programma sperimentale ma si vede che non ci sono i soldi per affrontare tutte queste fasi e quindi vengono uniti lo sviluppo del know-how per il rientro orbitale con lo sviluppo di un sistema abitato e nell'87 viene deciso di lavorare su due fasi dall'88 al 90 studi e pre-sviluppo del programma Hermes e dal 91 in poi la selezione del design vero e proprio e l'inizio dei lavori va bene questa l'ho spostata su ho dimenticato di toglierla da qui però fa il riassunto di tutto quello che di cui abbiamo un pochino discusso fino ad adesso e qui è Hermes nella sua configurazione finale poco prima che venga tagliato e vediamo gli elementi di cui accennavo prima cioè abbiamo una sezione dedicata all'equipaggio dove a parte i sistemi di pilotaggio abbiamo una serie di esperimenti e rack e una sezione distaccabile con dei radiatori il braccio era che è qui ripiegato che quindi a questo punto veniva buttato via ogni volta e qui questa estensione dove vediamo anche la tuta per EVA e ulteriori rack che potevano servire o per missioni autonome oppure per trasportare esperimenti sulla Freedom e sul Mountended Free Flyer ho inserito questa slide anche per darvi un pochino un'idea delle dimensioni e qui si vede questo è il punto esatto in cui ma lo vedremo meglio in un paio di slide più avanti dove i due elementi si andavano a separare il sistema il grosso sistema RCS per gli aggiustamenti dell'orbita e per la decelerazione di rientro è posizionato in questo nuovo elemento conico esterno in questa sorta di modulo di ricerca e di servizio e poi vediamo anche il docking port che aveva anche funzioni di airlock abbiamo quindi un mini spazio plano man rated con la capacità di trasportare fino a 4 astronauti e la massa è salita a 21.000 kg la prima versione di arian 5 doveva essere in grado di portare solo la metà di questo peso in orbita quindi c'è anche dietro l'idea che si può aumentare quasi raddoppiare la prestazione di arian per un totale di 3.000 kg di carico utile in realtà qui la cargo bay è sparita e questo in realtà è un dettaglio non secondario ne parliamo tra un attimo le capacità di stare in orbita sono 12 giorni erano previsti due voli per anno 15 anni di vita utile prevista e quindi 30 voli per ciascuna navetta se andiamo a vedere un pochettino la composizione della parte payload di hermes abbiamo dei racks il concetto di racks identici a quelli che sono oggi imbarcati sulla stazione spaziale nasce qui proprio per la possibilità di agganciare e sganciare in maniera modulare qualche cosa che viene assemblato a terra e l'astronauta deve solo vincere l'inerzia e diciamo spingere questi rack nella stazione oppure operare sui rack stessi se l'esperimento rimane montato internamente a hermes quindi abbiamo 9 rack destinati al cargo primario un rack extra per le emissioni a columbus perché si portano su comunque ricambi e materiale attrezzi per lavorare in fase manutentiva per le stazioni e poi altri equipaggiamenti specifici che rientrano in questi 3000 kg e cioè le tute spaziali gli attrezzi per gli EVA e il braccio robotico era ok come vi dicevo composto da navetta e modulo risorse ho inserito questa slide anche perché così se uno vuole andarsi a vedere il dettaglio di come erano stati organizzati gli spazi interni lo può fare magari andando a recuperarlo sull'esaballeting oppure mettendo in pausa il video andandosi a vedere un pochino come i progettisti avevano pensato di distribuire i servizi per l'equipaggio la zona carico e come era composto poi internamente questo grande cono che ospitava non solo rack e attrezzature per gli astronauti ma anche le tanniche di propellente per il sistema di reazione e tutto il necessario le tanniche per l'ossigeno per depressurizzare in caso di attività extraveicolare e tutto quanto tra l'altro un dettaglio interessante siamo a questo punto a metà degli anni 80 nell'86 87 ricorderete che succede qualcosa in America e cioè che il Challenger esplode e uccide il suo equipaggio e a questo punto sempre in questo budget molto risicato di pesi e prestazioni si decide di dotare Hermes di un sistema di escape per l'equipaggio che sono dei sedili a elezioni ed è una scelta obbligata perché non c'è modo di far stare qualcosa di più complesso come per esempio un'intera sezione abitata che si può separare e rientrare a parte questo vuol dire che la sicurezza per l'equipaggio era un pannicello caldo un sedile a reazione ha senso in alcune fasi di volo forse e comunque non ha alcun senso in orbita e quindi serviva più che altro per rassicurare forse l'opinione pubblica che dal lato europeo non si sarebbe avuta una tragedia avremmo avuto a disposizione dei mezzi per contrastare un possibile incidente ma nella realtà hanno aggiunto complessità ma senza raggiungere a mio parere un vero e proprio aumento della sicurezza se non in una breve fase del volo ascensionale è molto breve perché quando superi la velocità del sonno più voglio vedere ha buttato poi uno si si è proprio quello che dicevo è un pannicello caldo perché o l'anomalia c'è lì oppure purtroppo non ci sarebbe stato grandi speranze in realtà mentre per lo shuttle esistono studi varie modalità di abort con il ritorno alla zona di lancio tutte queste cose che tutti noi appassionati magari abbiamo visto almeno una volta una delle difficoltà che ho avuto nella preparazione di questa trattazione è che purtroppo la letteratura non specializzata non chiusa dietro a un paywall di qualche centro di ricerca è scarsissima anche la wikipedia classica da cui uno può partire per fare qualcosa è molto molto piccola e ho trovato molto di più sugli esaballeting per questo continuo a fare riferimento queste sono le misure 12,7 metri per la parte di rientro per la navetta vera e propria quasi 6 metri di lunghezza per la parte del modulo di servizio e di ricerca per un totale di 18,3 metri diametro di 5 metri e mezzo nella parte che tra l'altro era quella che si andava a interfacciare con il lanciatore quindi con l'Arian 5 perché Hermes naturalmente l'avete visto dalle immagini è montato sopra e non a fianco del suo lanciatore e nella parte abitata 2,9 metri naturalmente l'effettiva disponibilità interna è minore però questo vi dà un po' l'idea di quanto era grande la larghezza da ala ad ala sono 9 metri e più o meno la parte abitata ancora 2,7 metri quindi immagino che internamente ci sia uno spazio di poco più di 2 metri per 2 metri per 2 a disposizione degli astronauti allora questa altra immagine artistica ci fa vedere una delle possibili utilizzazioni di Hermes che è quella nella sua configurazione agganciata alla stazione spaziale Freedom quindi nella più completa descrizione questa navetta doveva svolgere missioni scientifiche autonome in orbita equatoriale a 800 km di quota missioni verso la stazione Freedom che aveva inizialmente una orbita diversa da quella dell'ISS oggi che è un compromesso che accontenta russi e americani ma questa la Freedom era solo americana o per partner del mondo libero e quindi aveva un'orbita diversa 28,5 gradi missioni verso il laboratorio europeo Columbus a 60 gradi quindi il my intended free flyer e la piattaforma orbitale con una orbita a 98 gradi e 500 km di quota allora le fasi di una missione tipo lanciato a bordo di un Hermes lanciato a bordo o sopra un Ariane 5 600 secondi dopo il lancio avviene la separazione tra navetta e lanciatore la massa in orbita è di 24 tonnellate per una velocità di 8 km al secondo avviene poi una manovra di circolarizzazione o di aggiustamento dell'orbita a seconda del profilo di missione da svolgere che può prendere fino a 48 ore e brucia 1400 kg di propellente nel caso specifico di una ho scelto di mettere specificamente un servicing del Columbus free flyer servono due giorni per le manovre orbitali e per il docking un giorno per i preparativi dell'interfaccia probabilmente verificare le perdite prepararsi equilibrare la pressione tutto quanto le attività dentro Columbus 6 giorni quindi e qui sono andato proprio a vedere c'è un calcolo sugli esa-balleting ci si aspettava che ogni missione fornisse 120 ore uomo di fatto quello che è la capacità di operare equivaleva a questo per ogni missione un giorno dedicato ai preparativi per il rientro e poi due giorni di margini in caso di maltempo tutte cose che abbiamo imparato a conoscere anche nel programma shuttle qualche imprevisto temporali sulle zone di atterraggio cose di questo tipo l'interfaccia l'interfaccia di rientro è a 120 km e per frenare per prepararsi a rientrare serve bruciare altri 1000 kg di propellente un angolo di rientro di 1,4 gradi e poi come già lo shuttle Hermes doveva passare da Mach 25 a circa 215 nodi quindi quasi 400 km all'ora atterrando su una pista lunga circa 3 km e la massa al touchdown è di 15 tonnellate adesso vi faccio vedere ce n'è più di una Istress è una di queste piste questo mi ha fatto tornare in mente Archipeppe che è bravissimo a fare questo genere di grafici cioè è la raffigurazione pittorica o artistica di come doveva essere questa missione dal lancio il jettison dei booster laterali di Ariane 5 la separazione della navetta che utilizza il suo sistema RCS per finire la manovra naturalmente questo è un pochino inaccurato perché questo modulo in teoria resta attaccato fino alla fine della missione l'altra cosa interessante era che i due booster laterali almeno in questo momento erano come dire previsti per il recupero era previsto il recupero dei booster laterali un po' appunto come fatto con lo shuttle allora mi rendo conto di essere un po' vago perché vediamo che questi design e queste parti della missione non sono coerenti tra di loro e questo è anche un problema nel corso dei 10 anni 15 anni di sviluppo del programma Hermes i requisiti anche fondamentali sono stati cambiati talmente tante volte che non c'è stata una vera e propria direzione unica e con un management accentrato per portare avanti un progetto di questa complessità e quindi questa indecisione questo rimpallo è raffigurato nelle vari numeri della rivista che potete andare a sfogliare a sfogliare perché vedete anche dei cambi strutturali in Hermes che si susseguono prima c'era il cargo bay poi non c'è più poi c'erano i seggiolini per l'espulsione degli astronauti poi in altre figure non ci sono più è particolarmente evidente questa cosa a questo proposito no no è così è stata fatta un'analisi che è citata nelle fonti purtroppo è dietro a un paywall ma ESA ha accesso al paywall dal pc del lavoro e sono riuscito a leggermelo per prepararmi c'è uno spiegone di varie pagine in cui ed è citato anche su wikipedia tra le fonti questo per questo l'ho raggiunto Martin Bayer che è un ingegnere tedesco ha fatto una serie analisi su tutti i fattori che hanno contribuito al fallimento del programma Hermes da un punto di vista ingegneristico e da un punto di vista manageriale ed è una lettura interessante purtroppo usa 19 dollari e quindi non è disponibile il pdf non sapete so che sarà difficile per tutti ovviamente lo avete nelle fonti e quindi potete andare a cercarlo in qualche modo un'altra slide per farvi vedere un pochino mamma mia è tardi le dimensioni di Hermes che qui sembra più un altro tipo di veicolo che ricordo un veicolo di CX forse comunque vi da un'idea di come sono le dimensioni di Hermes rispetto ad alcuni dei veicoli che abbiamo imparato a conoscere nel recente periodo quindi non piccolo esatto più o meno la metà di uno shuttle ma molto più grande di altre configurazioni a capsula c'è 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 i possibili luoghi di atterraggio pista di atterraggio del Guyana Space Center da cui tra l'altro partiva quindi il luogo principale di lancio non ve l'ho detto ma è quello da cui oggi si lanciano gli Ariane 5 cioè il centro spaziale della Guyana francese che è un possedimento d'oltre mare della Francia e che come tale è a disposizione ha una grossa base di lancio e gli Ariane partono tutti da lì i Soyuz affittati da o quantomeno di proprietà di Ariane Space o qual è la società che vende oggi i servizi partono da qui è stata costruita una rampa identica a quelle in in Ucraina in Russia in Kazakistan grazie e poi abbiamo Ford de France io ho messo i nomi qui Bermuda e i Stress perché come io solo di due sapevo si trovavano ho fatto il lavoro di andarmeli a cercare e quindi per la Guyana francese è semplice ma siccome di fatto questa è la nostra base di lancio attuale cari amici e colleghi europei sappiate che i nostri razzi partono da qui molto vicini all'equatore nella parte meridionale del continente americano questa è la Guyana francese ed è Europa specialmente Unione Europea non molto lontano la seconda base Ford de France e qui ho visto c'è l'aeroporto interessante che sia di fatto vicino alla città ma probabilmente il profilo di rientro poteva portare Hermes a rientrare comunque sopra il mare o da una missione polare o da una missione equatoriale non molto lontano altra base di lancio questo è sbagliato scusate Bermuda e ultima unica in Europa Istres e quindi Istres siamo nella nella parte meridionale della Francia purtroppo il francese non è parte delle mie skills e quindi di fatto abbiamo tre zone di atterraggio equatoriali vicino al continente americano e un solo base di atterraggio in territorio europeo e questo è quello che era stato quanto meno documentato comincia il tramonto di Hermes quando si comincia a vedere che tutte le scadenze quella famosa fase a due step stabilita nell'87 non si riesce a rispettare i requisiti di base non vengono stabiliti con chiarezza da un'autorità centrale e continuano a cambiare per esempio inseguendo come vi accennavo anche fatti contingenti come la tragedia del Challenger che porta a uno scramble oh mio dio abbiamo bisogno di qualcosa da mettere a bordo per salvare la vita agli astronauti il progetto naturalmente cominciando ad arrancare e in questo periodo siamo alla fine degli anni 80 cosa succede in Europa si riunisce la Germania e la grossa cassa la grossa cassa da cui attingeva paese ancora oggi la Germania è il primo contributore viene usata naturalmente per mettere a posto i disgraziati della Germania Est per agevolare il processo di riunificazione dei due paesi e la mancanza di un ufficio centralizzato forte che desse un impulso di guida a tutto il progetto è la ciliegina sulla torta in qualche cosa che viene a perdere quell'abbrivio in termini di supporto dei vari ministri e ministeriale dopo ministeriale si va a tagliare si va a rimodulare quello che è l'idea del progetto Hermes tant'è che nel 91 solo la prima fase quindi un design esplorativo è stato completato il budget disponibile si sa già che non è sufficiente e praticamente dei requisiti prestazionali richiesti dalla fase 1 dalla fine della fase 1 non si riescono a raggiungere allo stato delle cose pensate che per non abbandonare tutto perché naturalmente è stato fatto tanto lavoro si decide di provare a trasformare Hermes in quello che si doveva fare dall'inizio cioè in un programma senza astronauti a bordo per un piccolo spazio plano con cui acquisire know-how sulle tecniche di rientro e questo viene chiamato brevemente Hermes Hermes X2000 ma non sopravvive se non per qualche mese perché viene tagliato viene bocciato allora si prova un'ultima volta a partire con un nuovo programma che è quello che poi ha dato origine a quella schermata con cui ho aperto questo rendering è l'ultimo e viene realizzato in questo biennio ma nel 95 Hermes viene cancellato perché è chiaro che non c'è la possibilità di andare avanti con questo programma viene cancellato Hermes che cosa rimane di questo programma lo vedremo tra poco il companion oltre ad Arian 5 era questo grande progetto Columbus Mantended Free Flyer che come abbiamo visto era un programma di ESA per lo sviluppo di una stazione spaziale in realtà fatta da due anime il Mantended Free Flyer era ovviamente destinato a supportare esperimenti in microgravità questo è lo scopo avere un laboratorio in cui è possibile lavorare senza gli effetti della forza di gravità e era formato da tre componenti principali l'abbiamo detto a guida tedesca il Mantended Free Flyer questo elemento in grado di volare autonomamente un Attached Pressurized Module a guida italiana quello di fatto destinato a collegarsi e a rimanere collegato alla stazione Freedom e poi la Polar Platform quindi una piattaforma di ricerca questa volta a prevalente guida francese dove svolgere esperimenti e osservazioni della Terra il costo totale previsto dal programma per il periodo 1986-91 è di 3,56 miliardi di dollari comprendendo tutte queste tre questi tre elementi più le operazioni ecco qui il nostro rendering che ci mostra il nostro Hermes collegato al Mantended Free Flyer quindi un modulo di servizio perché da questo spaccato è facile vedere che di fatto solo la metà o solo due elementi due cilindri sono la lunghezza di questo di fatto sono tre metri credo ciascuno di questi elementi quindi sei metri circa di dimensioni lo spazio abitabile poi abbiamo il modulo di servizio con pannelli solari perché di fatto questo è l'equivalente della Tiangong grazie funzionalmente l'equivalente di una Tiangong ora anche in questo caso ho fatto molta molta fatica a trovare qualche cosa con cui leggere e argomentare bene questo racconto perché su Wikipedia c'è nulla praticamente c'è un accenno non è nemmeno chiaro perché è difficile capire quando si parla di Columbus che ci sono questi tre elementi ma c'è fortunatamente un documento di libero accesso ed è linkato nelle fonti dove tre italiani tre ingegneri di Alenia hanno presentato a un congresso spaziale un pochino il racconto di tutta questa epopea del progetto Columbus e ci sono delle tavole interessanti brutte da vedere forse ma a mio parere molto chiare ecco qui il nostro Attach PM4 e questo PM4 è il Pressurize Module 4 di fatto composto da quattro elementi e questo è il PM2 il nostro Mantended Free Flyer con un elemento abitabile da due con un elemento abitabile composto da due elementi mamma mia anche in questo caso i tre ingegneri volevano sottolineare la modularità e la commonality di alcuni elementi cioè che di fatto la versione A4 non era altro che una versione A2 a cui era stato aggiunto l'esatto un'esatta copia di fatto mentre questo elemento di base poteva essere chiuso con una sorta di tappo con un end cone e questo sarebbe stato l'elemento il PM2 destinato al Mantended Free Flyer quindi PM4 e PM2 tutti partendo dallo stesso elemento di base qui anche visto di taglio è possibile vedere la classica forma del rack ancora oggi presente sulla modulo Columbus della stazione e questo è quello che poi il PM2 è quello che era destinato a essere in volo libero è stato poi realizzato e collegato a ISS anche in questo caso una distribuzione degli spazi interni vedete quanti rack qui ce n'è uno in fase probabilmente di installazione o manutenzione ma è del tutto simile a quello che siamo oggi abituati a vedere su stazione spaziale internazionale quindi il know-how in Alenia era già presente un'idea molto chiara e molto molto vicina a quella che abbiamo oggi o quantomeno come volevano realizzarli molto simile a quello che abbiamo oggi sulla ISS giusto l'encio e di lato di testo sì poi chiaramente non penso che insomma è chiaro che non è qualche cosa di definitivo però gli elementi di base gli elementi di base ci sono tutti ok è una bella bestia forse più grande di Destiny no ok qual era il motivo a giustificazione di creare due elementi diversi perché perché di fatto e l'abbiamo visto nella presentazione dei nostri amici del Drop Your Thesis si volevano raggiungere con il Mantended Free Flyer le massime prestazioni di microgravità perché si dava per scontato che l'elemento attaccato a Freedom fosse comunque disturbato dal fatto che la stazione Freedom era abitata costantemente e che comunque la struttura le vibrazioni generate in una struttura così massiccia avrebbero peggiorato di un ordine di grandezza la qualità della microgravità ottenibile a bordo del laboratorio e quindi si dice no qui siamo molto buoni ma per esperimenti dove vogliamo il miglior possibile ambiente di microgravità abbiamo il Mantended Free Flyer e quindi di tutti questi numeri ho voluto farvi vedere questo che sintetizza la la differenza di requirement o di offerta in termini ambientali per gli esperimenti in realtà ho visto che nella tua presentazione era indicato che oggi è possibile ottenere sulla DSS 10 alla meno 6G quindi di fatto la DSS oggi offre no qualcuno dice di no però sulla carta offre 10 alla meno 6G quindi la fine del programma MTF da dove arriva? dalle ingenti spese di riunificazione tedesca che hanno portato alla riduzione del budget e infine alla sua cancellazione come in un effetto domino Hermes e Polar Platform sono stati cancellati poco dopo quello che era la l'attached payload module nella versione pro ha due soli elementi si è evoluto in quello che è oggi il laboratorio Columbus nel programma ISS e molti degli elementi già sviluppati già ideati per la Polar Platform sono stati riciclati in una missione successiva francese che è il satellite Helios ho messo alcune schermate brutte purtroppo perché dicevo che è difficile trovare questi numeri di esa ballot in online perché purtroppo per un centinaio di numeri a partire dal primo è stata fatta la scansione a immagine e non acquisendo anche il testo e quindi purtroppo Google naturalmente non indicizza nulla delle tonnellate di informazioni che sono chiuse qui dentro e sono raggiungibili queste fonti solo andando sul sito ESA e scaricandoseli a manina uno per uno però sono disponibili e i link ci sono ho messo questi per darvi un po' un'idea e poter in questo caso farvi sfogliare successivamente quelli che sono le capacità dei vari elementi del programma Columbus quindi sia la Polar Platform che abbiamo visto prima il Pressurized Module Reference Mission il Mount Ended Free Flyer Reference Mission e tutte le capacità per i momenti amarcord sempre perché ed siamo alla fine meno male perché siamo sono davvero lungo qualcosa che si pensava di fare in campo europeo per migliorare per diciamo per progredire lungo quegli step che abbiamo visto in alcune delle diapositive iniziali cioè per sviluppare sia la parte di lanciatori sia la parte di capacità di fare cose in orbita per esempio un buon un migliore motore Vulcan che è il primo il motore a razzo dello stadio centrale del core di Ariane oppure raddoppiare il numero di motori a razzo perché per esempio per ottenere un migliore sicurezza quindi avere un backup di fatto e poi per aumentare il payload naturalmente sappiamo che non basta aggiungere un motore per portare su di più nascono altri requirements perché se aggiunge peso non aumentiamo una versione di Ariane con al posto dei due booster laterali a combustibile solido due booster a combustibile liquido riutilizzabili e quindi con superfici di controllo in modo tale che potevano rientrare in qualche modo nell'area di partenza e poi hanno più riciclato forse il nome qualche anno dopo l'Ariane Transfer Vehicle che utilizzava come servicing della stazione spaziale Freedom del Columbus Free Flyer a me questa cosa sembra non c'erano molti dettagli dove ho trovato questa foto ma mi sembra proprio che somiglia all'ATV al concetto di ATV quindi qualcosa come un cargo spaziale quindi separato dal trasporto di esseri umani che consentiva di utilizzare le stesse capacità di lift dell'Ariane 5 per portare su una quantità rilevante di carico e poi la Ariane capsule e cioè la possibilità di utilizzare non solo un mezzo alato ma una capsula che chiude il cerchio perché all'inizio di tutto questo dibattito su Ariane sul progetto Ariane c'era stata una prima competizione e cioè ma scegliamo un mezzo alato subito oppure propendiamo per una capsula che costa meno è inerentemente più sicura e di fatto offre lo stesso servizio se quello che vogliamo fare è solo portare su persone e farle riscendere se non abbiamo il vano carico a cosa ci serve questa cosa l'unica risposta che quantomeno l'ingegner Martin Bayer dà nella sua trattazione che secondo me è interessante e ben motivata è il prestigio politico cioè mostrare che anche l'Europa poteva competere ad armi pari con le grandi potenze spaziali dell'epoca e quindi dotarsi di un mini spazio plano invece di una capsula che tra l'altro c'era esistente un design inglese proposto da British Aerospace di una capsula molto simile a quella che oggi Orion e quindi siamo sempre lì c'è una domanda che così come torno ciclicamente su forum astronautico e accendono delle discussioni infinite se le sono già poste 30 anni fa i fondatori del programma spaziale europeo e rimane un dibattito aperto ma secondo questa opinione in effetti guardando alle difficoltà che sono state attraversate dal progetto forse l'unico vero motivo per avere questo genere di navetta era di prestigio politico allora io avrei anche un filmato che mi ero preparato nelle fonti trovate il link che cos'è non esistono a oggi nemmeno dei dei classici video realizzati dalle agenzie spaziali per mostrare i futuri sistemi però esiste una comunità molto ricca di utenti di Orbiter che è un simulatore di di volo spaziale che ha realizzato tutto un video di 5 minuti in cui si vede questa missione ideale di Hermes per andare a servire il Mantender to Flyer a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.